Shanghai, letteralmente, città verso il mare Posta lungo la riva destra del fiume Huangpu, oltre a essere la più popolosa città della Cina, neanche il centro commerciale e finanziario per eccellenza. Una viva città economica ben rappresentata dai numerosi grattacieli del distretto finanziario di Pudong. L'Hong Kong World Tower, la Jin Mao Tower, lo Shanghai World Financial Center e lo Shimao International Plaza. Solo alcuni dei grandi edifici che svettano nei cieli di Shanghai e che fanno brillare la città di migliaia e migliaia di luci notturne. Una metropoli in continuo cambiamento, che anche grazie all'esposizione universale del 2010 ha mostrato agli occhi del pubblico internazionale l'importante processo di trasformazioni urbanistiche e culturali che sta vivendo. Nuove strade e linee della metropolitana, spettacoli, attività commerciali. Expo Shanghai 2010, una grande vetrina che sta incantando il mondo.